L'intera vicenda parte dal ritrovamento di un corpo all'interno di uno chalet a gola secca, in provincia di Varese. A poco a poco gli investigatori scoprono una realtà sconcertante dietro quel leferato delitto. Una realtà raccontata da uno dei membri della gang criminale responsabile della morte di quella persona. Sono proprio loro, le bestie di Satana. E questa è la loro storia. Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto, perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e prendere un crocifisso, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Lo so, dico sempre una cosa diversa all'inizio del video, prendete un crocifisso, prendete uno snack, eh sì. Li cambio in base all'argomento del video, quindi c'è della lore, non preoccupatevi. Comunque il caso di cui voglio parlarvi è tutto italiano, tristemente aggiungerei. È un caso noto ma in un certo senso anche dimenticato, quindi per commemorare le vittime e per ricordare che certe realtà esistono, oggi vi racconto la storia delle bestie di Satana. Preparatevi, ve lo dico con tutto il cuore, perché è una storia assurda e non la si può affrontare con leggerezza. Ah, come sempre su Pampling trovate le magliette che indossano i video, questa è bellissima, e tante altre cose fighe. Con il codice Andrew avrete anche delle calze a scelta in omaggio. Ma questo già lo sapete, quindi già vi dico che ci saranno tanti nomi e molte sottostorie nel video di oggi, per cui fate attenzione a tutto quello che vi dirò. Io come sempre cercherò di spiegarvi tutto in maniera più semplice e chiara possibile. Ma ragazzi, cercate di ricordarvi i nomi perché a un certo punto non ci capivo più niente nemmeno io. Prima di addentrarci nella storia però volevo precisare che con i miei video non intendo mancare di rispetto a nessuno, né tantomeno offendere. Tutto quello che vi racconto è il frutto di varie ricerche fatte sul web da fonti di dominio pubblico. Quindi l'intento dei miei video è semplicemente quello di informarvi e intrattenervi, con tutto il rispetto possibile per le persone coinvolte in queste storie. Ci tenevo a precisarlo perché in un caso atroce come questo, avvenuto in Italia tra l'altro, è possibile che qualcuno possa fraintendere le mie intenzioni o le mie parole. Perciò ecco, l'intenzione reale è solo quella di raccontare una storia vera e in modo oggettivo. Spero di essere stato chiaro. Detto questo, cominciamo con il file di oggi. Tutto ha inizio nel lontano 1995. Tre giovani di nome Mario Maccione, Massimiliano Magni e Fabio Tollis sono accomunati dalla stessa passione per un genere musicale. Un genere chiamato Brutal Death Metal. I tre si incontrano spesso e decidono di suonare insieme in una band tutta loro, che chiamano Ferocity. Il genere di per sé è uno sfogo di rabbia musicale, un genere forte, molto aggressivo e dalle tinte macabre. Nei loro live, questi tre ragazzi fanno in modo di risultare appariscenti e accattivanti, almeno per gli altri amanti del genere. Addobbano le zone dei loro concerti con tombe, scheletri e altre decorazioni a tema macabro e occulto. Nel frattempo Mario Maccione, storico fondatore della band, si trasferisce a Brugherio, in provincia di Monza. Questo suo trasferimento gli permette di fare la conoscenza di altre persone con cui lui e gli altri della band Ferocity stringono un forte legame. Queste altre persone sono Marco Zampollo, un tipo molto chiuso, calcolatore e intelligente, e Pietro Guerrieri, un tatuatore con problemi di tossicodipendenza. Il quintetto così si forma e si consolida, uniti tutti dalle stesse passioni spinte, proibite e un po' macabre. E fin qui niente di male, noi siamo i primi ad avere passioni un po' macabre, però in loro c'è qualcosa di particolare. Per farvi capire come si sentono questi ragazzi, potrei dirvi che si considerano alternativi, dei reglietti a cui il mondo non ha mai dato troppa gioia. Sono quei classici ragazzi di periferia che non riescono a trovare il loro posto nel mondo e facendo gruppo riescono a sfogare tutta la loro rabbia e la loro frustrazione. Iniziano a frequentare la città di Milano essendo vicina e piena di negozi di musica. Scoprono CD, più artisti metal e posti dove potersi sfogare con la musica e non solo. Trovano effettivamente due luoghi da frequentare con una certa assiduità. Il locale Midnight, una birreria a tema metal molto caratteristica, e la fiera di Sinigaglia, sui Navigli, che sarebbe una zona di mercato che c'è ancora oggi, viene fatta il sabato. E ci vado sempre, quindi mi fa strano che sia anche il luogo di uno dei miei video? Ma vabbè. Proprio a Sinigaglia, al quintetto, si aggregano altri due membri, Paolo Leoni e Nicola Sapone. Nicola è un tipo abbastanza chiuso e serio. È forse il membro del gruppo più freddo, il più glaciale. Non dimostra empatia nei confronti del prossimo e nonostante non paia prendere mai veramente l'iniziativa, ha le carte in regola per essere definito da molti come il più inquietante tra tutti questi ragazzi. L'altro, conosciuto a Sinigaglia, ovvero Paolo, è una persona con fortissimi interessi sul macabro, più di tutti gli altri ragazzi. Paolo ha sì la passione per il metal, come Nicola, Mario, Fabio e gli altri, ma è particolarmente interessato all'occultismo, al satanismo e alle sedute spiritiche. Oltre a questo, Paolo è dotato di una fortissima personalità. È carismatico, sa farsi rispettare e ha un passato davvero complesso. Praticamente suo padre era stato condannato per omicidio e la psiche di Paolo pare averne risentito molto. Si autoproclama il figlio di Satana e, con la sua visione distorta e orrorifica delle cose, riuscirà ad influenzare tutto il gruppo. Arriverà ad assoggettare ciascun membro al suo volere. Ancora però c'è spazio in più per aggregarsi a questa cerchia. Proprio Nicola, la mente fredda del gruppo, fa conoscere al resto degli amici un ragazzo di nome Andrea Volpe. Andrea è, come Pietro Guerrieri, un giovane con forti problemi di tossicodipendenza. Oltre a questo, Andrea è una persona profondamente disturbata, che afferma di provare piacere fisico nel procurare sofferenza al prossimo. Ha sottomesso e manipolato molte sue ex, ma l'essere entrato a contatto con tutte queste persone, persone con forti problemi con il mondo come lui, ha sulla sua psiche un impatto deflagrante. Ha finalmente trovato la sua gente. Si sentiva finalmente capito, incluso, almeno da loro. A questo punto il gruppo di amici è completo e sono tanti i volti e le storie dietro ciascuno di loro. Più si incontrano e più si sentono in sintonia, quasi come fossero compagni. Al di là dell'interesse della musica, che può essere innocente e non sinonimo di criminalità, fa, nei loro stati d'animo c'è una matassa di sensazioni d'odio e di rivalsa, che trova sfogo sì nella musica, ma come dire, questo è solo uno dei tanti mezzi. Ora infatti la musica non basta più. La band Ferocity non ha più senso di esistere soltanto come band underground tra i locali della Milano notturna. Si vuole fare anche altro, piuttosto che suonare e basta. Nel contesto di totale arretratezza in cui vivono questi ragazzi incompresi, dalle forti passioni inespresse da problemi mentali o di dipendenza, capiscono che devono formare una vera e propria gang, non per forza una setta. Al momento, e sempre più col passare dei giorni, vogliono spingersi tutti a commettere una serie di piccoli crimini, risse, spaccio, furto e prove di coraggio. E quindi, come in una vera gang, per dare alito alla forza delle loro voci e dei loro pugni, scelgono ognuno un nome di battaglia. In elenco, Mario è Ferocity, Paolo è Evil, Nicola Onussen, Marco Kill. Un ultimissimo aggiunto al gruppo di nome Eros Monterosso si fa chiamare Chaos. Fabio Tollis è Daemon, Andrea Isidon e Pietro, infine, Lioz. A questa lista di soprannomi manca Massimiliano Magni. Non sono riuscito a trovare il suo nickname, ma è quasi sicuro che ce l'avesse anche lui. Stando alle parole di uno dei membri, ovvero Mario, l'idea di satanico donava una certa cattiveria alle loro azioni. L'idea della band metal rimane, ma adesso assume dei connotati più macabri e ancora più spinti. Il modo di vestire, le azioni deplorevoli che compiono e il modo con cui continuano ad addobbare i loro live attira comunque molta gente. Danno l'idea di essere dei ragazzi dannati, mandati dall'inferno per spaccare tutto. Ma ancora è quasi tutto circoscritto nel loro ambiente, nei loro punti di ritrovo e con le persone simili a loro. Tra questa piccola fama che ricevono continua sempre a spiccare e ad emergere il nome di Paolo Leoni, alias Evil. Evil è colui che indirizza tutti gli altri a un interesse sempre maggiore nei confronti del diavolo e del culto ad esso associato, lo presenta come l'unica via da seguire e cerca così di plasmare e sottomettere tutti al suo volere e alle sue idee. Quindi adesso il gruppo si muove in branco come una vera gang, tutti fanno tutto insieme e si spalleggiano a vicenda, condividendo esperienze, gioie e dolori. L'eccessivo uso di sostanze, le parole cariche di carisma di Evil e le bravate che compiono spingono i membri a desiderare di mettersi alla prova a vicenda. Tra la gang così nasce la voglia di realizzare delle vere e proprie sfide, delle prove di coraggio. Queste sarebbero state fatte per mettere alla prova la resistenza mentale e fisica di ogni membro, così da guadagnarsi il rispetto, l'ammirazione e la paura degli altri. E così iniziano queste prove, che variano di volta in volta. Si parla di come fossero soliti spegnere la sigaretta sulla pelle degli altri per testarne la resistenza, oppure dare dei morsi violenti, bere fino a scoppiare, lanciarsi da luoghi altissimi e così via. Prova dopo prova, follia dopo follia, si entra in un discorso di vera e propria setta, dove strutture gerarchiche stabiliscono le regole, modi di comportarsi e azioni da compiere. Un giornalista che si è interessato al caso spiega precisamente di come il fenomeno che si è verificato in loro è la creazione di una setta fai da te, spinta da un satanismo acido, violento e senza un vero scopo. In un contesto del genere, tutti i membri si sentono spinti dagli altri a compiere gesti folli e terribili, arrivando a definirsi come quasi degli arcangeli del male. Il leader Evil, ovvero Paolo, continua imperterrito a dettare legge, acquisendo sempre più importanza e decretando chi sono i più meritevoli del gruppo. Talvolta impone di utilizzare qualcuno di loro come vittima di soprusi e sevizie, al fine di sperimentarne la resistenza e in questo modo chi subiva la violenza iniziava a desiderare di essere degno di rispetto e considerazione come tutti gli altri. Perciò cominciava a partecipare attivamente a qualsiasi azione folle che gli venisse chiesta di fare. Attenzione però, questa cosa non è proprio condivisa da tutti. Non tutti approvano questi metodi barbarici e violenti. Mario, per esempio, quello chiamato Ferocity, come la band che ha fondato, non capisce certi comportamenti di alcuni dei membri. Inizia a vedere quasi dell'odio all'interno del gruppo. Odio però non da riversare fuori, verso il mondo esterno, come hanno sempre fatto fino a quel momento. Odio nei confronti dei membri stessi. E nel 1997 si registra il momento in cui la neonata Setta, ribattezzata come Bestie di Satana, passa dal compiere bravate a veri e propri atti criminali violenti. Atti vandalici in metropolitana, veri e propri riti satanici e voglia di sangue sempre più crescente. Finora però si sono astenuti dal togliere la vita a qualcuno. Ma Evil, ovvero Paolo Leoni, decreta che i tempi sono maturi. La più grande impresa delle Bestie di Satana deve essere compiuta. Sto parlando di un omicidio. Di lì in poi sarebbe stata tutta una strada in salita per loro. Ma non si sarebbero fermati per nessun motivo. È giunto un momento di svolta per la Setta. Perciò non si sarebbero più limitati a fare sempre le stesse cose. I soliti live musicali, le solite assunzioni di stupefacenti o le solite bravate in giro. Anche le prove di resistenza, quei brutali test di coraggio, devono diventare ancora più ostici. Questo perché si vogliono preparare alla morte. Se mai qualcuno avesse avuto l'ardire di unirsi alle Bestie di Satana, è ancora più grave, se avesse voluto restare all'interno del gruppo, avrebbe dovuto dare prova della sua dedizione. Infatti al suo interno tutti devono guadagnarsi il timore di tutti. Ma come detto prima, non è la totalità della Setta a pensarla così, non in maniera così esagerata almeno. Ma in ogni caso, già nel 97, si sceglie la vittima sacrificale per questo balzo verso l'oblio. La vittima disegnata è una tale di nome Chiara Marino. Vi spiego chi è e perché proprio lei. Purtroppo non è la sola ad essere nel mirino, sentite. Chiara è un'amica storica del boss della banda, ovvero Evil, Paolo. Una fonte di Chiara di come lei fosse stata anche l'ex di Paolo e l'unica femmina affiliata al gruppo. Sia Paolo che anche altri sotto la sua diretta influenza vedono in Chiara la figura della Madonna, quindi l'esatto opposto di quello che invece loro professano. Già da molto tempo si parlava di volerla far fuori, persino da molto prima che Andrea Volpe entrasse nel giro, che vi ricordo era il membro più disturbato, questo almeno secondo la sua dichiarazione. Infatti dalle sue parole si stabilisce come Chiara sia sempre stata al centro delle attenzioni più malvagie del gruppo. Queste però si sono alimentate nel corso del tempo e sono esplose, in una rabbia sempre più collettiva. Ma la goccia che fece traboccare il vaso fu una relazione sentimentale di Chiara con uno dei membri delle bestie, ovvero Fabio Tollis. Fabio e Chiara insieme danno un duro colpo alla stima del leader. Paolo, il capo, come detto prima, è un amico di infanzia di questa Chiara, per cui per lui vedere Fabio provarci e riuscire a conquistare il suo cuore è come una sorta di affronto, soprattutto perché considerava Fabio solo uno dei tanti del suo branco. Mario, per esempio, un altro del gruppo, spiega di come la relazione tra Fabio e Chiara sia stata vista in un'ottica di sfida, come se un pesce piccolo fosse riuscito a ferire un pesce più grande. E Paolo, Evil, è il pesce più grande. Tra la banda nessuno può permettersi di toccarlo o anche solo sfiorarlo. Figuriamoci affrontarlo in questo modo. Nel contesto di assoluta pochezza intellettuale in cui si trovano le bestie, il fatto di aver avuto un'amica di infanzia la rende quasi di proprietà della persona con cui era amica. Per questo, se applichiamo questa logica al nostro caso specifico, Paolo è sempre stato il detentore massimo del destino di questa ragazza. Naturalmente tutto ha insaputa di lei. Per cui questa faida interna rischia di demolire l'autorevolezza di Paolo nei confronti dei suoi subordinati. E questo non può essere assolutamente tollerato. Data l'incalzante sete di sangue che sta caratterizzando molti dei membri, guarda caso quelli più vicini a Paolo, Chiara e Fabio, devono essere definitivamente fatti fuori. L'atto in sé di togliere la vita conferisce la potenza massima più auspicabile. La capacità di stabilire il confine tra la vita e la morte è la capacità più ambita e non ha uguali per le bestie di Satana. Il desiderio c'è, le motivazioni anche, bisogna solo passare ai fatti. Il primo tentativo di delitto avviene tra la notte del 31 dicembre 97 e il 1 gennaio 98. Fabio e Chiara si fanno convincere ad entrare nell'auto di un loro collega, se così possiamo definirlo, ovvero Pietro Guerrieri. Una volta a bordo, Pietro dice alla coppia di restare in auto per affrontare una prova di coraggio durissima. Appena Pietro sarebbe sceso, la macchina avrebbe preso fuoco e i due fidanzati sarebbero dovuti saltar fuori dalla vettura prima che questa esplodesse. In verità su questo punto ci sono delle contraddizioni. Alcuni membri infatti affermano che Pietro non disse nulla in merito ad un'eventuale prova, anzi molto semplicemente si erano appartati lì da soli ed è successo qualche successo. Viene però da pensare che in realtà qualcuno li abbia spinti ad essere lì su quell'auto. Perché se ci pensiamo, se non fossero stati invogliati da qualcuno a salire a bordo, non avrebbero avuto motivo di essere dentro l'auto di un loro amico da soli. Ma al di là di questo, loro sono lì, soli, a bordo di un veicolo pronto ad esplodere. Paolo e Pietro, rispettivamente capo e sottoposto, hanno piazzato dei petardi nel serbatoio della macchina, così da innescare un'esplosione. Lo scoppio però non avviene come programmato e le fiamme si divampano, sì, ma in modo graduale. Così Chiara e Fabio hanno per fortuna tutto il tempo di uscire. Questo in breve è stato il primo tentato omiglio ai danni di questa coppia, ma il problema più grave di questo atto, oltre che all'atto in sé ovviamente, è che Fabio è rimasto colpito da questa cosa. E positivamente! Secondo lui, quella della macchina esplosiva è stata a tutti gli effetti una prova di coraggio come tante affrontate prima. Naturalmente il leader Paolo e il proprietario della macchina Pietro non dichiarano apertamente di aver tentato di toglierli di mezzo. Per cui Fabio e Chiara, come quasi tutti gli altri, rimangono completamente all'oscuro del motivo che li ha portati ad essere sottoposti a questa prova. Il loro appuntamento con la morte però è solo ritardato, si ha ancora intenzione di eliminarli. E infatti a partire dal 17 gennaio del 98, la banda delle bestie di Satana non sarà più la stessa. Quello fu il giorno per cui oggi siamo qui a raccontare questa storia. Le dinamiche sono state più o meno queste. Per quel giorno viene annunciata un'altra prova di coraggio. La prova definitiva. La più cruciale è quella a cui nessun membro può rifiutarsi di partecipare. È una sfida in cui si deve stabilire una volta per tutte chi è il più forte tra le bestie. La particolarità della sfida però è che sarà l'ultimo sangue. Solo chi rimane in piedi, solo chi sopravvive può diventare uno dei capi, tanto semplice quanto brutale. Praticamente tutti credono nell'efficacia di questa nuova competizione, perché finalmente chiunque, anche il più piccolo e inetto del branco, può diventare leader ed essere al pari dell'incontrastato EVOL. Tutti quindi si danno appuntamento al locale che frequentano da sempre a Milano, ovvero il Midnight. Essendo una sfida impegnativa, la più terrificante mai affrontata finora, la più pericolosa e dove la vita è seriamente in pericolo, Fabio fa un'ultima telefonata a casa. Chiama suo padre intorno alle 23.30-23.40, dicendogli che starà fuori tutta la notte e che andrà a dormire a casa della sua ragazza Chiara. Ovviamente la sua era una bugia, perché al di là della segretezza della setta, credo che nessun adolescente al mondo direbbe mai al proprio padre che sta andando a lottare letteralmente per la sua vita in cambio di gloria e rispetto da parte di una setta satanica. Comunque una cosa curiosa, però, è che Fabio non ha detto queste parole a suo padre di sua spontanea volontà. Era stato obbligato da Nicola, il più apatico del gruppo. Al telefono, però, il padre di Fabio non è assolutamente d'accordo con questa scelta del figlio di stare fuori così tardi e dormire a casa dell'amorosa. Per dirvi, Fabio ha solo 16 anni, per cui suo padre, giustamente preoccupato, chiude la chiamata e va per prenderlo e portarlo a casa. E questo era un bel problema. Il piano della sfida all'ultimo sangue rischia di andare in fumo. Bisogna fare alla svelta. Perciò si parte alla volta di Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove in un boschetto completamente oscurato dal buio della notte, sarebbe avvenuta la fatidica sfida. Andrea Volpe ha accompagnato i primi sfidanti con la sua macchina in quel posto e sarebbe dovuto poi tornare a Milano. Sarebbe poi dovuto tornare a Somma Lombardo solo una volta che la sfida fosse conclusa. Ma in realtà, pare che sia rimasto lì nel bosco insieme agli altri e abbia quindi assistito effettivamente e attivamente al tutto. Insomma, alla fine lì c'erano Andrea, Mario, Nicola, Fabio e Chiara. Addentrandosi nel bosco, ad un certo punto, illuminata con la torcia di Andrea, si vede una buca già scavata in precedenza. Cala in silenzio. Tutti si rendono conto che è davvero una sfida all'ultimo sangue. Per quanto le dichiarazioni future di Andrea Volpe lo vedano come innocente, pare che lui e Nicola lì presente siano stati veri colpevoli di quello che sta per accadere. Attraverso l'utilizzo di due coltelli e una mazzuola da carpintiere, Nicola si scaglia contro Chiara, mentre Mario e Andrea contro Fabio. Ma il motivo per cui Mario si è scagliato contro Fabio non è per l'odio indotto dal capobranco, come invece lo è stato per Nicola e altri. Mario, almeno, ha compiuto il suo gesto, terribile sia ben chiaro, per sincero panico. In un certo senso lui è stato l'unico in quel momento ad aver effettivamente rispettato i criteri della sfida. Per paura di finire lui in quella buca, per paura di perdere la propria vita, si è accanito contro quello più debole. Chiara era già stata presa di mira da Nicola, Andrea era armato e intento a scagliarsi anche lui contro il più debole. Rimaneva solo Fabio, che infatti viene eliminato secondo la legge del branco. E così la tragedia si consuma a colpi difendenti devastanti. Fabio è quello ridotto peggio e insieme alla sua amata viene gettato in quella fossa. Fabio però continua a gemere. Non è ancora morto e continua a lottare per restare in vita. Ma a zittirlo per sempre è Nicola, quello più freddo del gruppo, dimostrando ancora una volta la sua essenza. Sereno come una pasqua, scende nella buca, mette in bocca a Fabio un riccio di castagno trovato lì vicino e finisce entrambi. Come se non fosse abbastanza Nicola fuma una sigaretta dopo aver fatto tutto ciò, ricopre poi quella tomba improvvisata e ci urina sopra. Cioè penso non esista un modo più brutto per mancare di rispetto a una persona morta. Ma Mario lì presente non ricorda questi dettagli, forse perché preso da un mix di adrenalina, spavento e terrore. Stando però alle parole di Andrea Volpe, lui non ha mai toccato Fabio quella sera e conferma di averli lasciati lì, di essersene andato e poi tornato per riprenderli e portarli a casa a Milano. Non so, a voi le conclusioni. Così la tragedia sembra essersi conclusa e le bestie di Satana registrano un delitto effettivamente compiuto, con due vittime. In tutto ciò però vi ricordate del padre di Fabio? Aveva detto al figlio che non intendeva lasciarlo in giro di notte per cui si era avviato per andare a prenderlo. Lui già sentiva da tempo che il suo ragazzo fosse proiettato su una cattiva strada. Finora però non aveva mai veramente capito in cosa Fabio si fosse cacciato, né tantomeno l'odio che aveva generato all'interno delle alte sfere della banda delle bestie. Per cui appena dopo la tragedia, il padre di Fabio trova tutti i ragazzi al midnight. Tutti, tranne Mario, Nicola e Andrea. Chiede agli amici di suo figlio dove sia andato, visto che per ragioni che noi sappiamo manca anche lui. Allora entra in gioco proprio il boss, Paolo Leoni, che quasi scortandolo via chiacchiera col padre di Fabio e lo persuade. Gli dice che va tutto bene e che suo figlio è a casa di Chiara e alla fine l'uomo si lascia convincere. Se ne fa una ragione e ritorna a casa. L'indomani di quel fatidico 17 gennaio, né Fabio né Chiara fanno più ritorno e questo giustamente allarma le rispettive famiglie. Fanno prontamente denuncia di sparizione ma i ragazzi rimasti della banda delle bestie mettono in giro la voce che fossero semplicemente andati via, scappati per sempre. Al padre di Fabio questa cosa non piace. È pur vero che oramai non conosce così bene suo figlio visti i suoi modi di comportarsi recenti, ma sente in cuor suo che forse è tutto falso, che non è vero che lui e la sua ragazza sono scappati. Le ricerche della polizia purtroppo vanno a vuoto e col passare dei mesi questo padre, disperato, si mette a cercare il proprio figlio da solo. Facendo quasi le veci di un vero investigatore, con le sue sole forze è il primo che riesce a scoprire tutto quello che si cela dietro le compagnie di suo figlio. Per prima cosa trova e legge il diario di Fabio e al suo interno trova dei simboli satanici. Indaga successivamente sul Midnight e scopre della band che in verità tutti sanno essere una vera e propria setta, le bestie di Satana. Scopre dei loro metodi di adorazione del maligno, della gerarchia che si cela dietro e del ruolo di quel Paolo Leoni che gli ha parlato di Fabio quella fatidica sera. È il primo adulto in assoluto in questa storia a portare alla galla tutti i misteri, tutti i sotterfugi e tutte le peculiarità della setta di cui faceva parte suo figlio. A questo punto per lui è inevitabile sospettare il peggio. Il problema però è che non c'è modo di provare effettivamente qualcosa. Questo padre non è un detective e per un motivo in realtà ignoto, cioè non si sa perché, non riesce ad interagire con nessuno di questa banda. Nel senso è certo della loro presenza ma è come cercare di afferrare il fumo a mani nude. Le bestie di Satana non sarebbero durate così tanto se fossero state solo un gruppo di delinquenti qualunque. Loro sanno muoversi nell'ombra e nessuno li ha cercati per anni dopo quei delitti. Hanno continuato a fare quello che facevano fregandosene della polizia e delle regole. Ormai non ci sono più freni e quello di Fabio e Chiara è stato solo il trampolino di lancio per arrivare ad uno status quo di assoluta invisibilità agli occhi della legge. Milano diventa il loro impero invisibile. Eppure, per fortuna, la loro supremazia termina nel 2004. È la mattina del sabato 24 gennaio 2004. Avviene qualcosa di completamente inaspettato per le forze dell'ordine di pattuglia quel giorno. Quello di cui ora vi parlerò sembrerà scollegato dal delitto di Fabio e Chiara ma ci torneremo presto, non preoccupatevi. Intanto ascoltate bene, la faccenda si complica. Praticamente a Somma Lombardo, luogo del boschetto del delitto di Fabio e Chiara, arriva una segnalazione. Andrea Volpe, uno dei membri della banda, insieme alla sua nuova ragazza, Elisabetta Ballarin, chiedono aiuto alla polizia per una presunta aggressione avvenuta a gola secca, un posto lì vicino. La fidanzata di Andrea, questa Elisabetta, sta occupando abusivamente quello chalet che è in realtà proprietà di suo padre. Le forze dell'ordine lì presenti vengono scortate sul luogo in cui è avvenuta questa presunta aggressione e notano delle cose strane, delle auto parcheggiate male, del sangue sul volto di Elisabetta, cose così. Dopo intense ricerche in quella zona si scopre un cadavere. Si tratta del corpo di Mariangela Pezzotta. Questa povera Mariangela era un'ex fidanzata di Andrea Volpe ed ex membro delle bestie di Satana. Già questo potrebbe farvi capire perché è stata fatta fuori. Intanto Andrea e Elisabetta vengono portati in un ospedale e sottoposti a un interrogatorio. Elisabetta non dura molto e fortunatamente confessa tutto. A togliere la vita a Mariangela Pezzotta sono stati lei e Andrea Volpe. A provarlo sono le auto trovate lì sul posto e tramite una serie di accertamenti si dimostra tutto. Elisabetta e Andrea, appena guariti, vanno in carcere per il reato contro Mariangela e la notizia fa capolino in televisione. A guardare questo servizio c'è anche il padre di Fabio Tollis. All'uomo, sentendo il nome di Andrea Volpe, torna in mente tutto quello per cui ha lavorato in quegli anni. Tutte le prove accumulate sul passato di suo figlio e sul suo collegamento a questa setta. Non passa troppo tempo e di lì a poco si presenta in commissariato e porta tutti i documenti, prove, oggetti, tutto quello che ha trovato e che possa essere, se non una prova, almeno un sospetto dell'esistenza del clan che sta terrorizzando Milano e dintorni. E, lo dico ancora, finalmente è giunto il momento in cui le autorità competenti, non tanto, scoprono dell'esistenza delle bestie di Satana. Nel 2004, ragazzi. Viene detto che ne rimangono assolutamente attoniti, dato che non sono minimamente a conoscenza di questa banda e di tutti i crimini a lei collegati. Rapine, pestaggi e addirittura omicidi. Gli omicidi di Fabio, Chiara e ora Mariangela. Ma la polizia non sapeva davvero nulla di tutto ciò fino ad adesso. Il disegno di un piano studiato e orchestrato inizia a venire fuori e viene fuori più volte anche il nome di Paolo, Evil, il capo della setta. Da lì è tutta una strada in discesa. Le bestie hanno vita breve, ogni carta di questo castello cade e fa sempre più rumore quando tocca il fondo. Volpe alla fine cede e collabora anche lui con la polizia. Pure Mario lo fa, dato che praticamente tutti stavano per essere beccati. Mario in particolare però si pente amaramente e fa ammenda, schierandosi completamente dalla parte della giustizia. Il processo così parte ed emergono praticamente tutti i retroscena di cui abbiamo già parlato. I rapporti personali, il passato di ciascun membro, l'evoluzione della loro setta e quello che hanno gradualmente iniziato a fare. La notizia attira enormemente il pubblico e la stampa e non mancano le consuete controversie, sia durante che dopo i vari processi. Alla fine dell'epopea giudiziaria che ha visto sbattuti sui giornali e sulle tv i volti di tutti i principali membri, possiamo iniziare a parlare di sentenze. Nel 2007 la Corte d'Appello di Milano condanna Elisabetta Ballarin e Nicola Sapone. L'accusa è di concorso nell'omicidio pluriaggravato di Mariangela Pezzotto, occultamento del suo cadavere e frode processuale. La sentenza infligge ad Elisabetta 23 anni di reclusione. A Nicola invece è ritenuto responsabile anche dell'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis, nonché dell'istigazione al suicidio di un altro membro ancora di nome Andrea Bontade, viene condannato a due ergastoli e tre anni di isolamento. Viene dato l'ergastolo anche a Paolo Leoni. Inoltre ad Eros Monterosso e Marco Zampollo vengono dati rispettivamente 27 anni e tre mesi e 29 anni e tre mesi. Andrea Volpe e Pietro Guerrieri invece vengono giudicati col rito abbreviato e ottengono in secondo grado una condanna a 20 anni e a 12 anni e 8 mesi. Mario Maccione, colui che ha contribuito di più nello scioglimento della banda, colui che durante quella mortale prova di coraggio aveva ucciso praticamente per paura, è stato condannato a 19 anni e 6 mesi di reclusione. Tutti gli imputati sono stati condannati anche a risarcire le famiglie delle vittime. Possiamo dire che giustizia è stata fatta, ma ne siamo sicuri? Non tutti pensano che giustizia sia stata fatta. Il padre di Fabio per esempio farà i conti con questa storia in eterno, come il padre di Mariangela che quando gli nominarono per la prima volta il nome di Andrea Volpe, quel giorno nel 2004, aveva capito subito che non avrebbe mai più rivisto sua figlia. Dei cinque membri della banda ora si sanno alcune cose, ve le riporto. Andrea Volpe, considerato una delle personalità principali del gruppo ma non il leader, ha scontato 16 dei 20 anni di carcere a cui era stato condannato. Ha oggi 46 anni e ha frequentato il corso di laurea in scienze filosofiche e dell'educazione. In carcere ha abbracciato la fede e si è convertito al cattolicesimo. Abita nel Ferrarese, la zona in cui ha terminato il suo periodo di detenzione. Mario Maccione invece è a piede libero dall'ottobre del 2017 e ha scritto un libro in cui racconta la sua storia all'interno del gruppo. Significativo il titolo, L'inferno tra le mie mani. Ha anche contribuito alla realizzazione di un documentario molto interessante che mi è servito come preziosa fonte. Elisabetta Ballarin, l'ex fidanzata di Andrea Volpe, durante il processo rivelò di essere stata plagiata dal compagno, al punto di venire convinta a partecipare all'omicidio di Mariangela Pezzotta. Adesso ha completamente cambiato vita. Si è laureata in didattica dell'arte mentre era ancora dietro le sbarre, dove ha avuto anche un'esperienza come redattrice nel giornalino del penitenziario. Nel novembre del 2020 lavorava in un ristorante nel Bresciano. Nicola Sapone invece è una delle bestie che ha ricevuto la pena più pesante, il doppio ergastolo. In carcere studia filosofia e continua a proclamarsi innocente. In ultimo Paolo Leoni, il capo supremo, Evil, leader indiscusso. Se dobbiamo dirla tutta non ha partecipato direttamente ad alcun omicidio, ma è stato condannato comunque all'ergastolo proprio per il suo ruolo di mentore della setta. È detenuto a Sanremo e in carcere fa il falegname, costruisce infissi e si dedica al rap. Ha cambiato quindi gusti musicali rispetto al passato. Ha fatto ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo per chiedere la revisione del processo, ma senza successo. Come ultima cosa però voglio porre l'attenzione sul fatto che le vittime accertate di tutta questa vicenda sono quattro, compreso il suicidio indotto di Andrea Bontade. Ma quelle sospettate, collegate alla setta, sono addirittura 18. Ragazzi e ragazze giovanissimi morti in modi orrendi, alcuni scomparsi, altri ritrovati carbonizzati in macchina o morti in suicidi sospetti. I colpevoli non sono mai stati trovati e i familiari di questi giovani non avranno mai una risposta. Infatti nessuna prova schiacciante in crimine ai membri della setta, ma vari indizi portano proprio a loro. E ricordiamo che tra i primi omicidi accertati e l'ultimo sono passati sei anni. È davvero possibile che in tutto questo tempo se ne siano stati bravi e buoni? L'intera vicenda, dopo più di vent'anni, è ancora avvolta nel mistero. A voi le conclusioni. A un'ultima cosa, pare che non tutti i membri siano stati identificati e catturati, perciò è possibile che qualcuno di loro ancora oggi sia libero nonostante abbia le mani sporche di sangue. Probabilmente la verità non la sapremo mai, ma la storia di questa setta non deve essere dimenticata. Dobbiamo ricordarci di come certe cose iniziano e soprattutto perché, al fine di imparare e far sì che cose del genere non si ripetano mai più. Ora però è arrivato il momento. Spero davvero di avervi tenuto compagnia e di avervi fatti riflettere. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! Grazie a tutti!